Musica Musica Quello tra Viareggio e il Carnevale è un rapporto d'amore che dura ormai da 135 anni e al quale la città versiliese ha dedicato anche un museo che ne mantenesse viva la memoria Il Museo del Carnevale inaugurato nel 2003 è un vero viaggio nella storia di questa tradizione e nei segreti della cartapesta Si va dai manifesti ufficiali disegnati dal 1925 in poi alle fotografie d'epoca dai bozzetti preparatori dei carri ad un percorso espositivo che svela i trucchi della preparazione della cartapesta E poi ancora bassorilievi e modellini dei carri vincitrici del passato che attraverso la satira ci fanno ripercorrere la storia politica dell'Italia degli ultimi 50 anni Musica Musica Musica